Il BES servirà per indirizzare e valutare le politiche? Sì, servirà a conoscere un pezzo di realtà che il PIL da solo non ci rileva, l'indice ad esempio di disuguaglianza o della sostenibilità. E attraverso questo una valutazione ex ante ed ex post delle politiche e delle scelte che i governi e la società fanno, soprattutto anche offre alla politica un'occasione di rinnovamento e di pensare seriamente a come la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale siano tutt'uno.